Abro ufficialmente oggi all'interno della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese un laboratorio LEGO Education Innovation Studio. Dentro un nuovo spazio si realizzano in modo permanente laboratori in grado di aiutare gli studenti a preparare il proprio futuro. Le attività proposte sono pensate per esplorare i talenti degli studenti ed esercitare il problem solving creativo, il pensiero critico e l'approccio pratico con attività manuali. Gareth Bordsworth, Sales Director di LEGO Education Europe. First of all, it's a great honour to be here today. I've met some fantastic people, some very inspiring people who are going to make a difference in children's lives. It's really important for LEGO Education to be here today because this is where we see our resources being used in exactly the way they were designed for. Very inspirational teachers who will use our resources, who will get kids engaged, hands-on, creative, and most importantly do this in an extremely fun way. I think also what you have here is something that's going to serve the community. I think everybody in the community should come and see this and be a part of this fantastic innovation studio. Un elemento chiave all'interno dello spazio LEGO Education di Settimo è la robotica, materia che sempre di più sta iniziando a diffondersi prevalentemente nelle scuole superiori. Elena Piastra, Vice-Sindaco e Assessora all'Innovazione del Comune di Settimo. LEGO ha sicuramente a che fare con la scienza, intanto perché tutti i modelli che andiamo a costruire hanno evidentemente dietro dei concetti, che sono concetti scientifici. Quando abbiamo incontrato per la prima volta LEGO ci hanno fatto costruire con dei mattoncini dati, quindi con dei concetti, che sono i concetti dati che a scuola di solito vengono insegnati ai ragazzi, un oggetto, in quel caso una papera, quindi la papera della LEGO, la tipica. In realtà abbiamo scoperto che è possibile da quei pochissimi concetti, da quei pochissimi mattoncini, costruire almeno un milione di papere diverse. Quello è lo stesso concetto che c'è dietro l'idea di LEGO, c'è la possibilità a partire da quello che impariamo a scuola, da quelli che sono i concetti chiave, le regole chiave, costruire un'immensità di reazioni, di possibilità, di idee personali, utilizzando la propria fantasia e creatività, che è quello che portiamo dentro Archimede e che questo spazio, spero, porti dentro Archimede nei prossimi mesi.